Campobasso è una città quasi svuotata in questo Ferragosto 2023, pochi i cittadini che si stanno concedendo un caffè, molti di più i turisti che hanno deciso di visitare i luoghi della cultura del capoluogo molisano. Al Museo dei Misteri questa mattina abbiamo incontrato un gruppo proveniente dalla Lombardia. Mi è piaciuto e continuate queste splendide tradizioni perché l'Italia va bene così, ci vuole così. Il Molise le sta piacendo? Moltissimo, è la seconda volta che veniamo, benissimo. Conosceva i Misteri, gli Ingegni? No, non è facile perché per esempio io non so neanche i Santi, Vabbè San Leonardo per esempio, cos'è? Chi protegge San Leonardo? Domanda? Non lo so. Voi mantenete proprio le tradizioni dalla nascita di queste, questo che mi piace tantissimo. Sono contentissima, bravissimi e complimenti a tutta l'associazione e a tutti i cittadini che partecipano. È la prima volta che viene in Molise? Sì, è la prima volta, primissima. Spero anche di tornare a Corpus Domini a vedere. Spiace che anche in televisione l'ho mai visto, mai conosciuto. cercato di fare più televisione, però molto molto bello, è piaciuto a tutti. Non conosceva quindi i Misteri? No, ma a Campobasso siamo venuti, noi siamo di Como, abbiamo fatto una gita, stiamo tutta settimana a vedere dintorno a Campobasso e oggi abbiamo visto questo, è molto bello. Sì, in Molise è la prima volta, l'anno scorso siamo venuti in Abruzzo e quest'anno abbiamo fatto in Molise. Tutto interessante, bellissimo, siete fortunati, vivete in un paradiso, direi. Vabbè, magari avete degli altri problemi, nessuno dice niente, però avete tanto verde, aria sana, presumibilmente pure il cibo è sano, no no, siete fortunati. Io sono una guida turistica che lavoro in Abruzzo e in Molise. Come mai ha deciso di inserire il Museo dei Misteri in questo tour? Sapendo che una delle feste più importanti qua in Molise è anche la fede e la religiosità che c'è nel popolo molisano, a me piace portare i gruppi, quindi io prenoto direttamente all'associazione e loro gentilmente, anche se oggi era giorno festivo, si sono adoperati per aprirci. Il Museo dei Misteri è aperto eccezionalmente in questo ferragosto, ma sono giorni che state registrando il pienone. Sì, la gente viene, specialmente nei festivi, molte famiglie, infatti tra fine settimana e questo ponte di ferragosto quasi un sacendo visitatori sono stati qui al museo. Da dove arrivano? È un po' tutta Italia. Grazie. 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 Grazie.